Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere assieme la bici che ha utilizzato Peter Sagan in questo Giro d'Italia. La bici è una Specialized Tarmac SL7. È una bici che ben figura su ogni tipo di terreno, proprio come il proprietario Peter Sagan. Difatti l'abbiamo visto davanti in tante tappe di volata e l'abbiamo visto vittorioso della tappa di Tortoreto caratterizzata da Choemuri. Nonostante il colore di questa bici sembra a primo impatto molto scuro rispetto a tutta la sua squadra, troviamo dei glitter applicati che la rendono molto appariscente. Questa ovviamente è la sua linea e la troviamo con il suo nome e le sue iniziali verniciate direttamente sul telaio, non con degli adesivi come si vede maggiormente sugli altri tipi di bici. La bici è interamente equipaggiata con il gruppo Shimano Dureis D2R917. Possiamo trovare davanti un freno anteriore con il disco da 160 mm e posteriore 150 mm. Ha delle pedivelle da 172,5 mm con dei pedali Shimano con misuratore di potenza Shimano. Le ruote montate sono delle Roval che montano dei tubolari da 26 mm, sempre Roval. Utilizza un manubrio S-Works da 42 mm e l'attacco manubrio Tarmac Integrated da 140 mm. Il nastro applicato su questo manubrio è un nastro Supacaz di colore nero. La taglia di questo telaio è un 56 cm. La sella utilizzata per Peter Sagan è la S-Works con foro centrale. Troviamo dei porta borracce, sempre anche loro S-Works. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto lascia un bel like e iscriviti al canale per vederne degli altri. Qui in centro troverai l'iconcina per iscriverti e troverai la playlist chiamata Biciclette per vedere altri video simili. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima.